Presentata oggi al Castello di Coloredo di Monte Albano invece la presenza dell'autorità la rete Smart Collinare che ha l'ambizione di crescere e diventare Smart Community. La parola all'assessore regionale Maria Grazia Santoro avvicinata per noi da Annalisa Anastasi della redazione di Udine. Quali saranno le prossime azioni che la regione intende mettere in atto per superare sul territorio in modo particolare in questo caso nella collinare a cui ci riferiamo il Digital Divide Stiamo lavorando all'acremente per poter raggiungere tutti i comuni della nostra regione con la banda larga pubblica ed in particolare le aziende e in questo senso i primi di maggio inizieremo i lavori sia per la ZIAC che il CIPAF ma anche per il distretto agroalimentare e per il distretto delle tecnologie digitali, dei centri di lavoro che utilizzando la banda larga potranno ottimizzare i loro servizi e diventare ancora più competitivi.